L'incontro doveva essere più che altro narrativo e celebrativo. Overland, popolare trasmissione Rai capitanata da Beppe Tenti, è ormai prossima alla ventesima edizione e il caffè degli alpini, complice la varesinità dei genitori di Beppe, ha voluto rendere omaggio a lui e agli ingredienti di un successo mediatico ultraventennale. I mitici camioniveco, lo staff di impavidi autisti, gli audaci cameraman e il vero protagonista, il mondo, solcato, attraversato, battuto palmo a palmo e abbracciato nella sua autentica essenza la gente, i popoli e soprattutto i bambini, immortalati ad ogni latitudine, in ogni continente perché, ricorda Tenti, loro sono l'unica cosa davvero importante. Dopodiché colpo di scena, tosto e agli occhi del pubblico numeroso estipato, con tanti spettatori in piedi persino inaspettato, arriva l'annuncio la nuova edizione di Overland potrebbe non andare in onda. Perlomeno sulla Rai, incredibile, ma purtroppo vero. È lo stesso Tenti a rivelarlo, anticipando che il tema scelto, quello del viaggio nei punti del mondo dove partono i flussi migratori, pare non essere piaciuto alle alte sfere della TV pubblica. Sul fronte della divulgazione, poco male e niente paura, taglia Cortobeppe, o la fila di emittenti private pronte a trasmettere il programma, ma resto convinto che, per coerenza, il format dovrebbe proseguire il proprio avventuroso cammino laddove è nato e cresciuto. Possibile che i nuovi vertici Rai si prestino ad un così macroscopico autogol? Ci auguriamo di no, ma nel frattempo non ci si ferma, la squadra di Overland è già pronta a ripartire.